Innamoramento di Orlando, libro primo, canto ventisettesimo, ottava. 1. Chi mi darà la voce e le parole? Tal qual si esprimerà Ariosto ad inizio del terzo canto. Ariosto dirà, chi mi darà la voce e le parole convenienti a sinove il soggetto? Che l'ale al verso protesterà che vole tanto che arrivi all'alto mio concetto. Boiardo dice, chi mi darà la voce e le parole un proferir magnanimo e profondo che mai cosa più fiera sotto il sole non fu mirata all'universo mondo. L'altre battaglie forrose e viole, cioè la progressione della battaglia di tipo quasi geometrico, in realtà ormai noti e fissati sono gli stereotipi usati dal poeta. A ricontar di questa mi confondo perché il valore e il pregio della terra a fronte sono condutti in questa guerra. Eran ciascuno tanto adirato che faceva sbigottir chi gli guardava e molti se partire senza commiato e poca gente se li avvicinava uscì a rovente fuor degli elmi il fiato e nel suo ragionar l'aria tremava e chiunque stava di lontano un poco giurava che i loro volti erano di fuoco. E si facevano l'altro ribilguardi parlando con voce aspre e minacciante benché al cominciare paresser tardi, cioè lenti, a iniziare, come io vi dimostrei nel dir davanti, ciò fu che di persozzi gagliardi e di cor fu ciascun tanto arrogante che ragionando si stavano ad agio mostrando con cura alcun vantaggio. Ma poi che Orlando trasse durindana forte gridando orse vedrà la prova se a tua prudezza che è tanto soprana un altro parre in terra si ritrova. La cosa più non va suave e piana, ponte Ranaldo convien che si muova, però prende Fusberta da ambo mano e verso il conte sprona Rabicano. E meno un colpo terribile e fiero come colui che forza altra misura, il dio d'amor che ha il conte per Cimiero, volò con l'ale rotte alla pianura, l'elmo dal monte ben gli fie mestiero che qua la fatasonno lo assicura, poiché Ranaldo ha tanta furia il tocca che gli avrea poste le cervelle in bocca. Ma il conte, che d'orgoglio è troppo caldo, quella percossa non cura un lupino, e stretto come uno scoglio all'onde saldo che non si scrolla dal vento marino, lui con gran forza percosse Ranaldo sopra dell'elmo che fu de Mambrino, ma lui, che è tanto fiere e si possente, per quel gran colpo se mosse niente. E rispose in un altro corroina dove l'iscudo e la lancia di scoperta, e piastra non vi valse o maglia fina, che via tagliò tutta, confusberta, seco, la giuppa, cioè la giubba, la veste che si teneva sotto l'armatura. Alla terra di Chinasi che fece mostrare la carne aperta, per questo dire il conte più saccese, ed a Ranaldo un gran colpo distese. Jones attraverso del manco gallone, mise a terra gran parte del scudo, e osbergo, e piastra, e grosso pancirone, fracassa, corroina, il brando crudo. Portò seco la giuppa e il camisone, che ha una sottoveste, sì che mostrargli fece il fianco nudo, ciascun deira si accende di malafiele, e la battaglia ogni or viene più crudele. Ranaldo prese un cruccio si diverso che alla sua vita mai ne ebbe cotanto, e menò ad ambe mani un grano verso, tal che se l'elmo non fosse d'incanto, tutto l'avrebbe spezzato e disperso, e per quel colpo orribile e tamanto, tamanto nel senso di tanto grande, equivale al latino tam magnos, ci dice lo scaglione. Orlando si estordì per tal maniera che non sapeva quel loco dove egli era. Il suo destiere correndo andava intorno, portando il stramortire in sulla sella. Dice a Ranaldo, io so che al terzo giorno, insomma, secondo la leggenda, nessun guerriero era capace di resistere ad Orlando oltre il terzo giorno, e qui Ranaldo lo ricorda in modo ironico, usato ironicamente dal Boiardo. Io so che al terzo giorno non durerà fra noi questa novella, e per dargli di morte ultimo scorno, un altro colpo addosso li martella. Io non saprebbi ben dir la cagione, ma il conte allora uscì destordigione. E risentito, cioè riavutosi, coniubbe Ranaldo qual gli era sopra per farlo morire. Turbato lo gridò. Giotton ribaldo, malaventura ti ha fatto venire, però che morto sei tu, stai saldo e vergognato se prendi a fuggire. Or te difendi. Sai, cotanto orgoglio, che averti alcun riguardo più non voglio. Così dicendo il conte a due manprese, forte e turbato d'urindana d'ure, percosse nell'elmo, e quel se accese, a fuoco e fiamma con molta paura, Ranaldo sulle croppe se distese, per quel gran colpo fordo ogni misura, perdon le braccia, età aperta ogni mano, via nell'arcione il porta, rabicano. Ma non fu già mai dragoni serpente che raccogliesse in sé tanto veleno quanto Ranaldo allorché si risente. Il corravea di fuoco e il viso pieno verso di Orlando, iniquitosamente prende a due mano il brando e lascia il freno. E similmente il senatore romano contro lui viene e mena d'ambe mano, ferir l'un l'altro con alto rumore. Ciascun più furioso e disperato e sempre cresce, la zuffa maggiore e l'arme a pezzi a pezzi vanno al prato, né scorgere ben può chi aggia il migliore, cioè chi abbia la meglio, che in poco tempo cangiasi il mercato. Cioè, qui per situazione, quasi che le azioni dei due guerrieri per il loro intrinseco valore potessero essere quotazioni in borsa. che in poco tempo cangiasi il mercato, or se veggion ferir de'animo accesi, or sulle croppe andar morti e distesi. E si feriano con tanta nequizia che a vendetta crudel seria bastante, e con aspro parlano l'altro a stizia, cioè si punge e fa stizzire. Diceva Alfio d'Amont il sir d'Anglante, cioè a Reinaldo dice Orlando, oggi hai trovato il brando di giustizia, confessa le tue amende tutte quante che sei per fama pubblica o ladrone, io vo che tu il confessi e fa ragione, tu te credi tuttora essere in Franza, disse Reinaldo, e gli altri minacciare, chi cambia terra di è cambiare usanza. Re Carlo Quivi non può comandare, tu me di villania con arroganza e credi che io te voglia comportare e t'affarne la prova in ogni loco, io sono meglio di te molto e non poco. Di chi è superbia, dimme, bastardone, perché uccidesti al monte, alcuni particolari di questa vicenda sono riportati nel canto sedicesimo, ottavi, dodici e quindici, alla fontana che era legata in braccio al re Carlone, ortevanti e porti durindana come acquistata per dritta ragione. Ben sei proprio figliol d'una puttana, qual perso che all'onore più non la stima e più sfacciata è dopo che il falche imprima. Date forse arroganza il re Troiano? Anche Troiano era stato ucciso in modo poco chiaro per l'intervento di un terzo guerriero, Don Chiaro, che aveva stordito Troiano in quel momento vincitore di Orlando e dato così in modo al paladino di riprendersi e di colpire mortalmente Troiano stesso. Ricordiamo anche che per vendicare la morte il figlio agramante nell'esordio del furioso attraversa d'Africa il mare. Ne ti vergogni di questa noella che ancora ferita a morte senza mano ti è trassato di spetto della sella, tu insieme lo cidesti in su quel piano, va, ti nascondi, va, vil feminella, tra gli uomini a parere a erdimento e sei condotto a tanto tradimento, diceva Orlando a lui, non fa mestiero della vostra bontà di disputare, che tu sei ladro ed io son cavaliero e tutto il mondo lo sa iudicare, bene agio ragion, si io son altiero, di alto monte, di troianche, è a contare che fu di tanto pregio di terraccia che non gli avresti tu guardati in faccia. Fovimeco Ruggero, allora è il buon Ruggero Vassallo di cui si parla più avanti nel libro secondo, vi furono, vi furono con me Ruggero e quel...